Andrea Linato, perché siamo qui a protestare oggi? Io sono il rappresentante del gruppo di docenti vincolati e assunti da GPS. Per noi questo è un momento critico della nostra vita lavorativa, in quanto siamo gli unici esclusi dell'assegnazione provvisoria. Come parla il mio cartello, abbiamo necessità e abbiamo diritto a ottenere le assegnazioni provvisorie esattamente come è stato per i nostri colleghi fino ad adesso. Non sappiamo perché il Ministero ad oggi ancora non ci ha dato delle risposte certe, sappiamo che ormai l'assegnazione provvisoria è partita per quest'anno e quindi è necessario un intervento. Abbiamo ricevuto il sostegno di tantissimi colleghi, anche strani alla nostra categoria, questo ci fa piacere. Abbiamo ricevuto il sostegno unitario dei sindacati e questa è una cosa molto importante per noi. Abbiamo il sostegno della gente, ora abbiamo bisogno che il Ministero dia delle risposte rapide. E quali risposte rapide vorresti ottenere subito? Abbiamo bisogno di una strategia per farci partecipare alle assegnazioni provvisorie quest'anno. Le possibilità tecniche ci sono, sul tavolo ci sono le possibilità, c'è la domanda cartacea, ci sono altre modalità per farci partecipare, anche in coda, non vogliamo togliere il posto nessuno, quindi abbiamo bisogno di partecipare. Lo chiediamo a gran voce, siamo qui, abbiamo superato lo scoglio della partecipazione online, di quella che è soltanto un gruppo Facebook, siamo in presenza, qui non è facile riunire un gruppo da tutta Italia a Roma, ma urge questo provvedimento nei nostri confronti.